Papà l'armatura, papà non sei più un giovanotto, oh cazzo, venga qua Per ottenere un danno bonus dopo aver realizzato un'uccisione, ah vabbè no, mi interessano da più gli xp Grazie per il danno male, uia Boom baby Oh hey Uno, due E tre Papà Andiamo, ah ce ne stanno, ah ce ne stanno altri, ok Pensavo fossero finiti, forza Boom, boom, uia Oh ma che è, è una minaccia, mi sorella Eeeh, buono te, papà, eeeh dai E moce Mamma Wow, ok Se star Se star No Ma cri Mannaggia Zeus Ok Marius Tutto bene Fantasticamente, ci hanno appena ucciso mamma, moglie, sorella e quant'altro Tutto bene papà Che vuoi che ti dica, oh ci sto Addio guarda Parlatemi Che succede Ma come che succede, è incazzato come una farina, che poi che succede Mamma, yeah C'è da dire che So Mamma mia Fighissime delle esecuzioni Aha Ho visto Esecuzioni migliori su Pochi giochi Credo forse God of War No, questa ce l'abbiamo vista Pensavo fosse nuova Ok, quanti punti ho? Perdonatemi, voglio vedere se riesco 39.000 punti Uh baby Vediamo se posso prendere altre esecuzioni Tipo Questa 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 Uh Credo che le possa Wow Ah Ok Va bene, perfetto Allora ci sono quelle con Le esecuzioni da punti esperienza Da furia Da salute Da danni E poi Posteriori Ah, ok Posteriori Devo Sbloccarne qualcuna Bene Ok, ok Bene, bene Perfetto Potremmo anche andare con quelle salute No No, forse è ancora meglio con quelle Cioè, per Per il coso E aumentiamoci Un'altra barra della salute My yes baby Haha Guarda lì la salute Quindi Ok 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 Ui Mamma Voglio vedere Una cosa Però Ah, ho sbagliato Non si vede un cazzo Dannazione Perdonatevi Sarò un attimo concentrato Nel Via quel braccio Via pure a te Oh, ok Ah, me ne sono accorto adesso Ma c'è la vita di Leontius lì Ascolta Voglio non ucciderci Eh Dobbiamo arrivare al senato Per salvare la mia gente Oh Ah, 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 ah Cos'era questo Ceccio Sì, lo so Lo so Non mi devi ripetere Si morirai Mimma Minchia Vieni qui Oh No, volevo fare l'esecuzione Oh Volevo fare l'esecuzione Mannaggia Vediamo se Ah, ok Se tengo per mondo si corre Vediamo se c'è tipo qualche consumabile Qualcosa No Niente Niente Adesso consumabile qui per strada Qui Oh, che carino Bevi la mia bava Domanda tecnica però A parte ovviamente che la grafica è fantastica Come cazzo hanno fatto i barbari ad entrare nelle mura di Roma Senza che nessuno se ne accorgesse Tipo così a caso, no? Papà 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 Oh I fantastici bivi Sarà andato di là Oh Di là Oh ma buon gioco Che cazzo è lei ora? Vuole fare un po' di zoom zoom Con Marius Ok Sei tipo una fatina Dei desideri Voglio vedere che c'era All'altra Oh Oh Ok Marius Questo è il momento in cui dovresti andarti a fare quell'esame antidroga Che fanno a tutti i legionari romani Quando inizi a vedere gente che scompare Devi iniziare a farti anche qualche domandina Da tipo Ma sono completamente sano di mente Eeeh Eeeh Non credo Non credo Comunque Che fegata E' proprio come la Roma odierna Identica Uguale proprio Che è questo? No per Ma che è tutta sta roba pergamena? Ma dove si vedono? Scusate eh Collezionabili Eccoli qui Cartoline Abbiamo questa Uh bella Ah ok Ma questa è tutta la roba che si trova pure su Google Immagini E' questo qui Leontus Sembra si è trascorso un'eternità Dai giorni trascorsi nell'esercito Come era tedioso Marciare attraverso le infide selve Sopravvivere ai mari burrascosi Dove riesco a morire Forse bla 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 Ok Stoppate se volete leggere Non siamo qui per vedere i collezionabili Non ora Diciamo lo apro In modo tale che se lo Io me lo leggo dopo in fase di montaggio Se voi ve lo volete leggere Stoppate il video Leggetelo Yep Dannazio Con quale voce Marius Con quale voce Sì Andiamo papà Uccidiamo Uh aspetta Ho preso la nuova cartolina per Sia Maria Arrivo Ui E sta Fatta ammazzare Porco Mondo Uh si vede pure l'osso Eh Dannazio mi ricordo Quando andavo Ero andato all'ospedale Un paio di volte Che c'erano questi Bimbe C'erano questi Tutti malissimo Tipo che si era Tipo tagliato un dito Che si vedeva l'osso Eh Ok Vieni Vieni Oh I graffiti dell'antica Roma Ave nero Ciccione Tossico Del cazzo Ah 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 ah